Benvenuti e benvenute in questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione delle istanze relativa alla fase 1 delle missioni in ruolo per l'anno scolastico 2024-2025. A differenza di altre procedure, le date per la compilazione dell'istanza non sono stabilite a livello nazionale ma dai singoli uffici scolastici. Ricordo che potranno compilare l'istanza solamente coloro che sono stati convocati dagli uffici scolastici, di conseguenza chi ancora non ha ricevuto la convocazione non è abilitato alla compilazione, motivo per cui non riuscirà ad accedere alla sezione. Altro aspetto molto importante è il seguente, chi non compila l'istanza ma è convocato per le missioni in ruolo sarà trattato d'ufficio, di conseguenza coloro che non sono interessati all'immissione in ruolo devono comunque compilare l'istanza per effettuare la rinuncia esplicita. L'istanza si compila attraverso l'usuale portale Polis di assistanze online. Come sempre effettiamo l'accesso utilizzando uno dei servizi proposti e rimanendo nella pagina principale cerchiamo il riquadro informatizzazione nomi nel ruolo, espressione preferenze provincia, classe di concorso, tipologie di posto. Il riquadro invece sottostante, espressione preferenze sede, sarà per la fase 2 e sarà compilabile solamente da coloro a cui sarà assegnata una provincia nella fase 1. Ricordo infatti che gli uffici scolastici tipicamente convocano più persone rispetto ai posti disponibili e autorizzati per il ruolo dato che ci sono sempre delle rinunce. Per compilare la fase 1 clicchiamo su vai alla compilazione. Dopo aver letto le indicazioni sulla compilazione della domanda e sul trattamento dei dati personali clicchiamo in basso a destro su conferma lettura. In questa pagina possiamo visualizzare tutte le gradatorie dalle quali siamo stati convocati e molto importante il periodo di compilazione che tipicamente è di 48 ore. Si può inoltre accedere alle guide ministeriali e alle FAQ che consiglio di leggere per una corretta compilazione. Clicchiamo su vai al dettaglio qua a destra per accedere all'istanza. Nella prima sezione è possibile visualizzare i propri dati personali nel caso in cui non siano corretti è possibile modificarli cliccando qui. Passiamo ora alla compilazione della sezione numero 2, quella più importante perché riguarda le proprie preferenze. È possibile ordinare secondo le proprie preferenze le classi di concorso o le tipologie di posto per le quali si è convocati e le province. Nel mio caso essendo stata convocata per una sola classe di concorso potrò ordinare esclusivamente le province. È possibile modificare l'ordine delle preferenze già inserite trascinandole ed è possibile rinunciare a qualche preferenza cliccando su questa doppia freccia. In questo caso la preferenza comparirà in questa seconda tabella. Quando si rinuncia a qualche preferenza bisogna prestare particolare attenzione perché quando si arriva alla propria posizione in gradatoria se nessuna delle preferenze espresse è disponibile ma invece sono disponibili esclusivamente dei posti tra le preferenze per le quali si è rinunciato si viene considerati rinunciatari al ruolo. Non vi è una seconda possibilità. Quindi chi non vuole rinunciare in alcun modo la possibilità del ruolo non deve rinunciare nessuna delle preferenze onde evitare di risultare rinunciatario. Qualora che invece vogliono rinunciare sicuramente al ruolo magari perché hanno già una nomina e non vogliono modificarla devono rinunciare a tutte le preferenze quindi basterà selezionare tutte queste preferenze in modo tale che compaiano nella tabella delle rinunce. Una volta completato l'ordinamento delle preferenze passiamo alla sezione 3 per verificare il riepilogo con tutti i dati e infine clicchiamo su inoltre.